Ciao a tutti amici collezionisti e non solo come vedete continuiamo con la raccolta FIFA 365 della Panini e continuiamo a spacchettare i nostri pacchetti ne spacchetteremo altri 5 anche oggi ne apri subito la prima bustina e troviamo Max Meyer dello Schalke poi troviamo Sara e ce l'ho questo Sara svegliati che primavera Malgareglio Nengolan contentissimo di trovare Nengolan ma ce l'ho doppione e Millestone de Luisao e questa mi manca sono sicuro che mi manca allora secondo pacchetto ancora Schalke 04 Embolo e se non sbaglio è doppione Yara e ce l'ho doppione Paoligno e ce l'ho doppione Ubtiti se non sbaglio ce l'ho doppione e questa ce l'ho doppionissima ce l'ho 300 volte questa figurina qui che è la numero 1 bellissima per carità perché è una figurina stoffata ma la avrò trovata 50 volte penso allora qui c'è qualcosa di interessante troviamo Van de Beek dell'Ajax Versalico dell'Atletico Savic dell'Atletico e Jimenex del Benfica ma cosa più importante troviamo la figurina di Lionel Messi che è quella sotto in basso a destra che non mi ricordo se ce l'ho sinceramente che è la figurina stoffata mi pare mi mancano tutte e due quelle a sinistra se non sbaglio di Messi però adesso vediamo vedremo nel cello mi manca poi abbiamo Joao Mario dell'Inter Dracena del Palmeiras Vargas del Club America e Palasaric dello Spartak e poi abbiamo tre giovani promesse che ce l'abbiamo tutte e tre quinto pacchetto e anche ultimo dello spacchettamento abbiamo Castro del Borussia Dortmund Botia dell'Olimpiagos che a memoria penso che mi manca Fabrizio Bruno mi dovrebbe mancare della Capo Nense Reinaldo anche e poi abbiamo questa premiazione che ce l'abbiamo che se non sbaglio è la premiazione della Confederation Cup e ce l'ho ok adesso interromperemo un attimo il video e lo riprenderemo subito dopo che ho sistemato le figurine per fare il cello mi manca allora eccoci qua pronti a fare il video del cello mi manca che poi è il proseguimento di quello di prima in cui abbiamo aperto le le bustine la figurina numero uno ce l'abbiamo per l'ennesima volta no io ho più trovato sta figurina oh poi andiamo a questa qui e mi manca mi ricordavo mi mancavano le due a destra invece che avevo le due a destra invece no soltanto le due superiori quindi mi manca questa qui che va qui sotto in basso a destra di messi ecco qui quindi la figura di messi e di ronald è quasi finita mancano le due figure in basso a sinistra per finire questa bellissima figurina poi abbiamo questa la premiazione la confederation cap anche questa ce l'ho 300 volte il portiere del bocca col 26 ce l'ho sara poi 32 ce l'ho che è iara qua dobbiamo saltare andare alla ciapugonense qui allora ho trovato la 67 che mi manca che è rinaldo lo andiamo ad attaccare poi abbiamo il 74 che mi manca qui in alto che è Federicio Bruno e poi ho trovato la numero 88 del Palmeiras che mi manca che va qui che è Drasena poi dobbiamo saltare arrivare qui che ci sono le next generation e ce l'ho questa figurina qui poi c'è il Chelsea dobbiamo arrivare all'Atletico Madrid ecco qui dove la figurina di Savic 157 ce l'ho Versalico con la 161 mi manca non so perché ero convinto che ce l'avevo invece mi manca e la 177 ce l'ho che è Umtiti del Barcellona e 187 Paoligno ce l'ho dopodiché andiamo alla sezione E perché abbiamo delle figurine dello Schalke 04 quindi saltiamo tutte queste pagine andiamo direttamente a quella dello Schalke che abbiamo trovato con il numero E11 Meyer e ce l'ho doppione embolo con E19 invece mi manca va qui sotto e poi dell'Inter abbiamo trovato la figurina E35 che va qui che è João Mario e per questa volta diciamo le figurine relative alle sezioni e sono finite poi c'è Bayer Monaco e dobbiamo andare a Borussia troviamo la 294 che c'è l'ho che è Castro poi abbiamo la 306 dell'Olimpiagos scusate che mi manca che è Botia poi abbiamo il mitico Nainggolan che però qui c'è la Juventus poi il Napoli poi la Roma e Nainggolan come vedete ce l'ho doppione dopo di che dobbiamo arrivare a 391 che è la Millestone di Luisao che mi manca che mi manca poi Club America la 404 mi manca che va qui che è Vargas Iaxe e poi abbiamo trovato dell'Ajax la 429 che va qui che è Van de Beek che mi ricordavo che mi mancava e poi del Benfica la 455 che mi manca che va qui che è Gimenex e poi dello Spartak la 466 ce l'ho e anche la 473 ce l'ho quindi questo video è finito ci vediamo prossimamente con altri video sempre relativi a FIFA 365 per chi fa questa collezione e anche di altre collezioni quindi continuate a seguirmi ci vediamo prossimamente ciao a tutti